Bentornati al TG7, terzo episodio di auto in fiamme a fondi. Poco dopo le 24 di questa notte, una lancia Ypsilon parcheggiata in via Lombardia è stata completamente distrutta da un incendio. Tempestivo, a seguito di segnalazione, l'intervento della squadra dei vigili del fuoco 3A del distaccamento di Terracina, che ha provveduto alle operazioni di spegnimento mettendo a fuoco in sicurezza la zona. Secondo i primi accertamenti effettuati sul luogo dall'ufficiale dei vigili del fuoco, risultano sconosciute le cause del rogo. I proprietari dell'auto hanno inoltre dichiarato di non aver mai subito intimidazioni di alcun tipo. Sul caso indagano i carabinieri della locale tenenza impegnati anche nelle indagini dei precedenti episodi che risalgono a domenica 13 novembre per l'incendio di una BMW nei pressi della Portella e alla scorsa settimana per una golf distrutta dalle fiamme. E restiamo a fondi ladri in azione in località Santa Anastasia. Ad essere presa di mira, come si legge dal quotidiano Il Giornale di Latina, le auto parcheggiate nei pressi della piazza che porta al mare. I fatti risalgono a ieri mattina, quando alcuni malintenzionati hanno distrutto i vetri delle auto posteggiate per rubare ogni oggetto, anche di minimo valore che fosse presente nell'abitacolo. Un servizio lasciato a metà, dato che una delle auto danneggiate, in cui erano presenti una borsa con del denaro contante uno smartphone, non è stata depradata. I ladri si sono quindi dileguati, lasciandosi alle spalle quello che sarebbe stato il bottino più ricco. E spostiamoci all'Enola, dove dal 28 novembre al 18 dicembre 2016 sia Piazza Cabur che il Centro Storico verranno completamente chiusi al traffico. Questo perché l'amministrazione comunale ha investito sul recupero dei beni pubblici, tra cui il Centro Storico. Intervenire e permettere il ripristino di quelle zone da tempo dimenticate, scrivono in una nota rivolta alla cittadinanza dal comune, vuol dire recuperare i beni storici di Enola, grazie ai quali abbiamo potuto notare in questi ultimi anni il ritorno di turisti e visitatori, soprattutto nel periodo estivo. Tutto questo vuol dire anche la consapevolezza del disagio che state vivendo in questi ultimi giorni, del quale ve ne siamo grati. Per fare in modo che un'opera importante come quella che si sta realizzando nel Centro Storico possa arrecare meno disagi e dal contempo l'obiettivo di terminare i lavori prima possibile, nonostante qualche giorno di condizioni meteo avverse, vi invitiamo a provvedere agli approvvigionamenti necessari che richiedono l'uso di automezzi in vista della chiusura al traffico del Centro Storico. Il comune di Itri, in seguito alla richiesta del consigliere comunale Agresti, ha formulato alla Prefettura di Latina richiesta di parere sulla possibilità di costituire un albo di scrutatori formato esclusivamente da persone disoccupate, inoccupate e non abbienti. La Prefettura ha specificato quanto già espresso dal sindaco di Itri, Antonio Fargiorgio, in commissione elettorale, ovvero che nessun comune può modificare o estendere i requisiti di iscrizione all'albo degli scrutatori. Dunque, un nobile obiettivo che non può essere realizzato. E parliamo di eventi. Ricordiamo che il 25 novembre prossimo si celebrerà la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. La data ricorda il terribile assassino delle tre sorelle Mirabal avvenuto nel 1960 durante il regime dominicano di Raffaele Leonida Trujillo e dal 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha deciso di istituzionalizzarla. Per l'occasione l'Associazione Nadir, centro antiviolenza, in collaborazione con il Comune di Fondi e il Parco Naturale dei Monti Aosoni e Lago di Fondi, ha organizzato dal 25 al 27 novembre una serie di iniziative per sensibilizzare la cittadinanza sul tragico fenomeno della violenza sulle donne. Gli eventi in programma, afferma la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Fondi, Daniela Di Pinto, costituiranno un'occasione per riflettere su un tema che rimane purtroppo di scostante attualità. Insieme alla Presidente dell'Associazione Promotrice, Fernanda Parisella, e a tutte le rappresentanti del centro antiviolenza, abbiamo rivolto una peculiare attenzione alla partecipazione delle scuole, luogo principe per il cambiamento della mentalità dei cittadini di domani, perché agisce nel lungo periodo e influenza identità e relazioni delle persone e tra i sessi. Per tutte le iniziative in programma vi rimandiamo al nostro sito internet tvcanalesette.it e il sito del Comune comunedifondi.it. E restiamo in argomento. Tra le diverse iniziative con cui la città di fondi quest'anno aderisce alla giornata mondiale contro la violenza sulle donne, ci sarà per il terzo anno consecutivo il progetto 25 novembre, ideato dall'Associazione Turismo Creativo e promosso dalle associazioni culturali Quadrato Fondi ed Urbo Officina e dalla Galleria d'Arte Contemporanea Basement Project Room, con il patrocinio del Comune di Fondi. L'edizione 2016 ha come protagonista un artista arrivato direttamente dal Brasile per realizzare tre splendidi interventi nelle città di Fondi, Terracina e Minturno. Apollo Torres tra il 18 e il 25 novembre l'artista Verdeoro lavorerà nelle città coinvolte. A Fondi sarà cambiato il volto di una cabina Enel. Venerdì 25 novembre alle 12 in Via della Scala avrà luogo una breve cerimonia di inaugurazione dell'opera realizzata dalla presenza di autorità istituzionali e delle scolaresche. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare. Testimonia al 2016 sarà per l'occasione Francesca Parisella, volto noto della TV da anni inviata per programmi RAI di approfondimento. Per informazioni vi invitiamo a consultare il nostro sito internet tvcanali7.it e il sito internet 25 novembre.org La Latina Film Commission della provincia di Latina, nell'ambito delle proprie attività istituzionali, nell'ottica di soddisfare le richieste delle produzioni cinematografiche presenti sul territorio, è lieta di presentare tre masterclass formative di cinema d'eccezione. Tre esperti professionisti e di successo per avvicinarsi ed approfondire il vero cinema italiano, organizzatore generale di produzione. Il cinema dalla A alla Z, dall'idea al prodotto finale, passando attraverso le fasi e le figure professionali che ne fanno parte. Docente Alessandro Calosci. Scenografo cinematografico, come dare credibilità e verità alle scene di un film. Lo scenografo è la persona che si deve occupare in modo creativo di tutto ciò che riguarda la parte visiva di un film. Docente Francesco Friggeri. Musica per il cinema, la musica per immagini. Come si compone una colonna sonora cinematografica. Docente, il maestro Umberto Scipione. Per tutti i dettagli si può consultare il sito www.latinafilmcommission.it E passiamo allo sport. Escono vittoriose dalla seconda giornata del campionato di seconda divisione femminile le ragazze dell'HC Banca Popolare di Fondi, che nel pomeriggio di domenica hanno sconfitto contro ogni pronostico la favorita meta 2 di Badolato, tra le mura di casa con il punteggio di 24 a 20. Le atlete di Mr. Manojlovic, nonostante alcuni errori tecnici dovuti alla giovaneta, hanno mostrato ancora una volta di essere all'altezza del campionato in corso, con un notevole gioco di squadra ed ottime soluzioni individuali. Insomma, una buona base per raggiungere in futuro dei obiettivi importanti. Prossimo appuntamento per le ragazze dell'HC Banca Popolare di Fondi, domenica 11 novembre in quel di Salerno. Intanto possono godersi il primato solitario nella classifica del girone D del campionato di seconda divisione. Prestazione monstre della Pallavolo Fondi, che tra le mura amiche regola con un perentorio 3-0 lo zagarolo di Mr. Rebiscini e si rilancia ulteriormente in classifica. Più che la vittoria in 3-7, quello che ha impressionato sono stati i parziali nettissimi a favore del team Fondano, che ha sfoderato finalmente in casa una prova decisamente convincente e senza sbavature. Le ragazze di Savastano sono parse assolutamente in palla sin dalla prima battuta ed hanno letteralmente travolto le ospiti in tutti i fondamentali, così da far apparire, specie nella fase iniziale, il confronto assolutamente impari. Eppure lo zagarolo veniva da due belle affermazioni e le prestazioni precedenti autorizzavano quantomeno un cauto ottimismo in casa zagarolese. Ma in pratica, tranne una breve parentesi nel secondo set, quando le ospiti hanno provato a reagire ad un devastante 25-7 iniziale, il match non ha avuto storia. Questa edizione del TG7 termina qui. Per segnalazioni e suggerimenti potete contattarci alla nostra mail redazionechiocciolatvcanalesette.it o sulla nostra pagina Facebook Canale 7. Potete inoltre continuare a seguirci sul nostro sito internet tvcanalesette.it Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulla nostra rete.